Salve a tutti e ben ritrovati, ancora alta pressione in questa prima parte della settimana, continua quindi la fase secca sulla nostra regione, avremo ancora la costante di nebbie durante le ore notturne, ampiamente soleggiato invece durante il giorno, qualche insidia nella giornata di giovedì, vediamo insieme di cosa si tratta con l'aiuto della grafica. E infatti nella giornata di oggi, dopo nebbie che interesseranno le zone interne pianeggianti al primo mattino, avremo il cielo che si presenterà poco nuvoloso per il resto della giornata, temperature stazionari con le massime intorno ai 20 gradi, le minime intorno ai 10, ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali. Passiamo a martedì 10 novembre, pochi cambiamenti sulla nostra regione, con ancora nebbie e foschie durante la notte al primo mattino, cielo che poi sarà prevalentemente, parzialmente nuvoloso con temperature massime in lievissimo calo. Passiamo a mercoledì 11 novembre, avremo ancora una giornata caratterizzata d'alternanza di nubi e schiarite con le temperature che non subiranno variazioni di rilievo, continua quindi la fase secca per la Puglia che si concretizzerà anche nella giornata di giovedì 12 novembre, seppur con qualche insidia che vi annunciavo nella prima parte del video dovuta ad un aumento della nuvolosità sul Salento dove a causa di un debole vortice di bassa pressione sulla Grecia potremmo avere appunto un aumento della nuvolosità associata anche a qualche debole piovasco. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo nei valori massimi, le minime invece in lieve aumento sul Salento per quel che riguarda la ventilazione ancora moderata dai quadranti settentrionali. non perdete gli aggiornamenti per il weekend, vi aspetto come sempre venerdì.